Un 25 aprile così non si era mai visto, senza piazze, commemorazioni o iniziative pubbliche. Così anche Arezzo ha celebrato il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo in piena emergenza sanitaria Covid-19. Io ritengo che questa sia una seconda resistenza, diversa dalla prima chiaramente, molto diversa, senza armi, però che ci ha messo a dura prova, ci ha costretto a stare in casa per evitare il contagio anche per gli altri. Quindi è stato un grosso sacrificio, però adesso è diverso da allora, è una città Arezzo distrutta dai bombardamenti dove mancava tutto, adesso nelle nostre case c'è tutto. L'importante è che si riesca a risollevarsi e qui c'è bisogno di unione di tutti, non di parole e di propaganda tutti i giorni, ma l'unione di tutti, l'umiltà soprattutto, come avevano gli uomini che hanno fatto la resistenza. Che si sono rimboccate le mani, che hanno ricostruito il tessuto sociale. Un 25 aprile dunque di restrizioni, ma comunque con una cerimonia istituzionale con modalità rigidamente riservate. È un peccato, no? Perché in effetti anche l'altro anno c'era molta partecipazione, perché forse questa giornata è molto sentita, io lo vedo anche dalla stampa che pubblica le varie iniziative che nonostante tutto oggi vengono attuate. Ovviamente non con la presenza della popolazione e questo penso che sia una dimostrazione che comunque le persone si ricordano di questa data, che è quello che è importante. E forse si ricorderanno anche di questa giornata, no? Forse si ricorderanno ancora di più di questa giornata, perché siamo in questa situazione che è una tragedia e quindi bisogna sottostare a queste... e prendere tutte le precauzioni, ancora di più prendere le precauzioni. Prefetto, presidente della provincia, sindaco e presidente del comitato provinciale Ampi hanno infatti reso omaggio al monumento alla resistenza che si trova di fronte al palazzo del governo. Siamo nuovamente in guerra, questa è una guerra ancora più subdola perché il nemico non si vede, perché gli strumenti per combattere li stiamo sperimentando. Quindi ancora più difficile, ma in questo momento più che mai, quindi l'unità di tutti noi, come l'Italia si è rialzata dopo la seconda guerra mondiale, si rialzerà anche dopo questa brutta situazione. Dobbiamo rimanere uniti e ci rimaniamo nel cuore, quindi siamo in pochi qui, ma tutti quelli che sono a casa ci penseranno in questo momento e sicuramente quando ci sarà un momento di concentrazione tutti insieme, anche solo attraverso il mezzo televisivo, saremo ancora una volta tutti insieme. E per i giovani questo deve essere un messaggio importante, cioè la festa della liberazione nazionale e che sappiano da dove viene e per sapere anche dove vanno. Presente anche Monsignor Riccardo Fontana per una benedizione. Sono qui a rappresentare i miei 27 preti che durante la guerra di resistenza hanno lasciato la vita. Mi piace ricordare in modo particolare Don Alcide Lazzeri di Chitignano, parroco in Valdichiana a Civitella, che fu massacrato in maniera orribile per aver difeso il popolo. Difeso materialmente il popolo dicendo che erano innocenti, che li lasciassero stare in pace, ma non guardarono in faccia a nessuno. Io ho paura quando non si guarda in faccia a nessuno. Se c'è veramente un'eredità che ci hanno lasciato quelle donne e quegli uomini che ebbero il coraggio di andare controcorrente, è questo senso di unità, vedere, puntare sul bene comune anziché sull'interesse di un gruppo rispetto all'altro. Alcuni cittadini infine hanno voluto omaggiare questa giornata con un lenzuolo bianco con su scritte le poesie di resistenza, versi di Rodari, Tognolini e Calamandrei.